Ciao a tutti e benvenuti in questo video dove oggi parliamo del De Ente et Essenzia, che è praticamente un'opera di Tommaso d'Aquino, una sua opera giovanile. Opera giovanile scritta tra il 1254 e il 1256, mentre Tommaso era baccelliere biblico a Parigi. Si affiancava il magister durante le lezioni e poi poteva anche autonomamente fare delle cose. L'opera è scritta sotto forma di opuscolum, dedicato ad fratres socios, cioè ai confratelli compagni di studi. Gli opuscola avevano un legame stretto con l'occasione per la quale venivano scritti, in particolar modo per rispondere alle domande espresse da coloro cui sono dedicati. Significa che questi avevano chiesto a Tommaso alcuni chiarimenti, eccoli qui, su nozioni filosofiche fino a quel momento sconosciute agli studenti, in particolare quelle legate alla traduzione della Metafisica di Avicenna. Avicenna era uno tra i traduttori dall'arabo e dall'ebraico di Aristotele. Avicenna è considerato uno dei traduttori più attendibili, se possiamo dire così, di Aristotele, perché faceva una sorta di parafrasi dell'opera aristotelica. Non aggiungeva commenti oppure interpretazioni personali. E perché però questi confratelli non conoscevano Aristotele? Perché tra il 1210 e il 1215, vedete qui, all'Università di Parigi, era praticamente vietata la lettura dei testi di Aristotele, non credendo conciliabile la sua filosofia con la dottrina cristiana. Tornando un attimo agli opuscola, che appunto avevano questo stretto legame con l'occasione per la quale venivano scritti. Esistevano invece cose differenti, come ad esempio i commentari e le questiones disputate, che erano più legati all'attività didattica ordinaria. La De Veritate, ad esempio, è una delle opere più importanti di Dommaso. Ci sono 29 questiones, ok all'interno, con più di 250 capitoli. Per capire tutto questo, andiamo a vedere un po', diciamo schematicamente, prima di passare proprio al dente d'essenza vero e proprio, parliamo di qualche nozione sulla filosofia medievale. Quindi la filosofia medievale si divide in due periodi principali, la patristica e la scolastica. La patristica nel periodo che va dal IV all'VIII secolo d.C. e la scolastica dal IX secolo d.C. in poi. Il maggior rappresentante della patristica, lo sappiamo, è Sant'Agostino, chiamato, ovvero soprannominato, il Platone cristiano. Aveva il suo fulcro, vedete, nelle cattedrali e nelle abbazie, che erano legate ad un'economia feudale, con l'abate che era praticamente considerato la stregua di un feudatario. Quindi il fulcro, come vi stavo dicendo prima, essendo un feudo vero e proprio, era nelle campagne. La scolastica, invece, il cui esponente più importante è proprio Sant'Ommaso, chiamato l'Aristotele, invece, cristiano, questo era il Platone cristiano, questo l'Aristotele cristiano, si sviluppava all'interno delle cosiddette scole, che avevano invece il loro centro di maggior interesse nelle università, e quindi nelle città. Gli ordini, come i francescani e i domenicani, ovvero ordini mendicanti e ordini predicatori, erano delle novità nella struttura ecclesiastica. I nuovi conventi non erano legati all'economia feudale e i frati erano mandati a studiare proprio nelle università. Oppure, dalle università venivano reclutati gli studenti migliori, i giovani, diciamo, più brillanti, come ad esempio Tommaso stesso, che nel 1244 entrò nell'ordine domenicano. Tommaso, infatti, si trovava già all'università, prima di entrare nell'ordine, a Napoli, nella università fondata da Federico II. Quando entrò nell'ordine domenicano, questo non piacque ai familiari di Tommaso, e infatti decisero, ecco, di dissuaderlo in ogni modo, in quanto, come vi dicevo, sarebbe dovuto diventare abate. Per i filosofi della scolastica, due sono i principi filosofici da trattare, cioè il rapporto tra ragione e fede, questo era già presente in Sant'Agostino, quindi anche nella padristica. La cosa loro, diciamo, più importante e fondamentale era questa qui, la dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio. Dopo aver parlato, quindi, di tutte queste cose che ci aiutano un po' a calarci nel contesto, arriviamo a parlare del De Ente et Essentia. L'opus Colum è composto da un prologo e da sei capitoli. Nel prologo del De Ente et Essentia, Tommaso dice che bisogna capire bene il significato di due termini venuti fuori dalla traduzione della metafisica di Avicenne, appunto come dicevamo prima. Questi due termini sono Enz e Essenzia, che noi chiameremo in italiano da qui in poi Ente ed Essenza. Ente ed Essenza sono le due prime nozioni che il nostro intelletto conosce, prima di tutte le altre, per cui se non si comprendono bene, dirà Tommaso, successivamente commetteremo certamente molti errori. Quindi bisogna chiarire che cosa? Tre cose. Il significato di Ente ed Essenza. In che modo ciò che questi termini significano si trovi in diverse realtà e che rapporto hanno con le intenzioni logiche, cioè con il genere, la specie e la differenza. Il metodo sarà quello di partire dalle cose composte e posteriori, che sono più facili per noi da capire in quanto ne abbiamo un'esperienza tangibile, per poi arrivare a quelle semplici e anteriori. Poi ci dice anche che si partirà dal lente per arrivare a spiegare l'essenza. Quindi, come aveva detto, partiamo dall'ente per arrivare all'essenza e nel capitolo 1 subito ne spiega il significato. Quindi, come per Aristotele, Ente ha due significati. C'è l'ente reale o categoriale e l'ente logico o della copula, ovvero del verbo essere. Andiamo all'ente reale. È ciò che ha l'essere. Ciò che è. Viene sempre usato in riferimento a cose reali che hanno un'essenza. È concreto, di esso ne abbiamo una certa esperienza e assume tanti significati quante sono le categorie aristoteliche, che sono dieci, e che si dividono in sostanza, che è l'ente in senso proprio, come ad esempio l'uomo che esiste di per sé, e i nove accidenti, che sono enti solo relativamente alla sostanza, come può essere, ad esempio, il colore della pelle. È un accidente, cioè una qualità, nel senso che il colore della pelle non avrebbe significato se non ci fosse la sostanza uomo, perché di chi è questa pelle? Poi c'è l'ente logico, che invece, come dicevo prima, è della copula, ovvero del verbo essere, che si usa per esprimere una connessione di concetti. e lo capiremo meglio dopo. Comunque adesso procediamo con ordine. Viene sempre utilizzato per cose non reali, che non hanno quindi, non hanno un'essenza. È il significato che il termine assume per dire che una proposizione è vera, perché connette correttamente dei concetti. Non esprime però l'esistenza dei concetti che connette. Qua c'è bisogno un attimo di andare a vedere attraverso l'esempio che ci fa Tomaso stesso. L'esempio è questo, la cecità è nell'occhio. Vedete, questo è usato come copula. Questo è ha la caratteristica di connettere due cose, cioè la cecità e l'occhio. Non ci dice, ecco qui come dice qua, l'esistenza dei concetti che connette. Questo è non è equivalente o uguale a esiste. Ok? Lega correttamente queste due cose che sono la cecità con l'occhio e andiamo a vedere ulteriormente. L'è della copula non significa che l'affermazione esista, cioè non significa come dicevo prima, esistere. Nonostante sia vera, è vero, perché i concetti sono connessi correttamente. Non c'è un errore. Qui non dice che il cavallo è il gatto, il sole è la luna, cioè concetti non veri. Questa è una proposizione vera, quindi i concetti sono connessi correttamente. Però non è detto che questa affermazione esista, tantomeno che esista la cecità. Dice, ma come? Non esiste la cecità? Cioè no, la cecità non esiste. Quello che esiste come ente reale sono occhi privi della loro funzione normale, che è quella di vedere. Cecità è il modo in cui l'intelletto connette il fatto che alcuni occhi non vedano. cecità è solo nel nostro intelletto, quindi. L'intelletto mette in correlazione il fatto che gli occhi privi della loro funzione normale non vedano e questo loro non vedere si chiama, per connessione logica, cecità. E ancora, Tommaso insiste e dice per questi motivi, se una proposizione è vera, allora saranno vere anche le negazioni e le privazioni, come questa qui, ovvero occhi privi della loro funzione normale. Questa è una privazione, quindi dovrebbe non esistere. E infatti non esiste come ente reale, esiste come ente logico. E saranno vere anche le negazioni, il non è. Ok? Non è, non significa quindi che non esiste, perché comunque non esiste neanche è. Quindi qualcosa non è qualcos'altro e qualcosa è qualcos'altro, non esistono nessuna delle due come ente reale. Ma come ente logico, se sono connessi correttamente questo concetto con questo concetto e questo con questo, non esistono come ente reale le negazioni, le privazioni e le affermazioni, nonostante sono vere. Ma soprattutto vuole dire il contrario, che mentre come enti reali non esistono, come enti logici esistono tutte e tre, quindi negazioni, privazioni e affermazioni, perché sono vere, se i concetti sono connessi correttamente. Ok? Continuiamo quindi con il capitolo 1 e continuiamo con l'essenza, perché aveva spiegato appunto l'ente, il termine, il significato, adesso continuiamo con il significato di essenza. Il significato di essenza si desume dal lente. E' ciò che fa sì che una cosa sia quella che è, ovvero ciò per cui un ente è tale. Qui è più chiaro, risponde alla domanda quid est, ovvero che cos'è? Quindi da questo quid est è detta anche quiditas. Diciamo, alcuni lo scrivono con due D, ma credo io l'avevo sempre visto scritto con una sola D in latino, o in italiano quidita. Quindi è ciò per cui una cosa rientra in una delle dieci categorie, cioè in un genere e all'interno di questo in una specie che è diversa da altre dello stesso genere. Quindi ci sono, vedete, genere, specie e differenza, le tre intenzioni logiche. E c'è l'esempio, l'uomo è l'ente, l'essenza dell'uomo è ciò che costituisce l'uomo in quanto tale. Ciò per cui l'uomo rientra in un certo genere, che è quello della sostanza, all'interno di questo si differenzia da sostanze di specie diverse da quella umana. È detta anche forma da avicenna e natura da boezio, però natura indica l'essenza in quanto principio di operazioni. Ad esempio, l'uomo parla e il cane abbaia, no? Vedete la differenza con l'ente? L'ente è ciò che ha l'essere, ciò che è. L'essenza è ciò che fa sì che una cosa sia quella che è. Risponde alla domanda che cos'è? Quid est? Risponde alla domanda Risponde alla domanda Risponde alla domanda